Due settimane a Santo Domingo mi hanno restituito tutto il tempo che ho perso dietro a quel coglione del mio ex marito, guarda. Se lo sapevo divorziavo ancora prima di sposarmi. Santo Domingo, che bello. Bello. Anna, io sono tornata indietro di dieci anni, eh. Tutte le notti a ballare con Cicchito. E chi è? Cicchito, il maestro di salsa e merengue. No, guarda, solo al pensiero mi viene la pelle d'oca. Oh, è vero. Comunque non ce l'ho fatta lasciarlo lì. L'ho riportato come in Italia. Ma che stai dicendo? Lasciamo perdere, tanto tu non puoi capire. Senti, ma invece perché non ci vediamo giovedì? Così te lo presento? No, Giorgia, non posso. Lavoriamo tutto il giorno e la sera dobbiamo stare con i bambini. No, Anna, che palle, eh. Io capisco il marito, i figli, ma un po' di divertimento ogni tanto. Non è mica un reato, no? Sì, lo so, mi piacerebbe, ma non posso. No, a te non ti piacerebbe. A te piace la vita piatta che fai. Vabbè, adesso vado a fare lezioni. Ci vediamo dopo, eh. E comunque la mia vita non è piatta. Cicchito, 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 tu sei il mio frutto proibito. Cicchito, 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 tu sei il mio frutto proibito.